Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua per andare ad affrontare il primo stage della Supreme Magnificent Battle Movie Edition. Abbiamo i movie di Z, partendo da Goku Youth, poi per ora arrivano Goku e Piccolo e poi i 3 Great Super Saiyan, quindi questo sarà probabilmente, non Broly, sarà C13. C13. Detto questo, raga, andiamo ad affrontare la prima Blue Zone e vediamo un pochino con i movie bosses come sono. Oddio, ma è Goku Arale questa? Oddio, è Goku Arale? Vabbè, allora, 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 non so nulla, però gli vedo tante barre di vita. Che famo, che famo, che famo. Che famo. È un po' particolare qua la scelta. È un po' particolare la scelta. Avrei tanto intenzione di fare una roba, dai. Famo, famo così. Testo un po', perché io lo sto ancora testando, ok? Cioè, comunque, giocando le Blue Zone nuove e tutte, testiamo il PG nuovo, perché è ok che ci ho fatto già un po' di showcase, però non l'ho provato nei nuovi eventi e tutto, quindi vediamo un po' lì. Vediamo un po' lì, vediamo un po' lì. Allora, Broly subito incavolato. Vuol dire meno tanky. Oh, ok, monofase? Is this monofase? Mi sembra che abbia un bel po' di vita sto Kid Goku. Sto Kid Goku mi sembra abbia un poca vita. Cioè, un bel po' di vita, nel senso. Oh, special? Vabbè, sto zitto. Dopo apriamo e vediamo quant'è che va. Che palle. Che palle, veramente. Veramente, che palle. Non ce la faccio più, eh, io. Io non ce la faccio più. Voglio... Voglio... Guarda, veramente, da un lato... Io, io, regà, il Global è dannato per questo, eh. Il Global è dannato per questo. La gente buildeva. La gente buildeva i PG proprio pesante. Io, vabbè, ok. Non la di che, però non li vorrei trovare fra gli amici. Vabbè, vabbè. Vabbè, sto calmo, sto zitto, sto tranquillo e basta. Non è che posso fare molto altro alla fine dei conti. Non è che posso fare molto altro. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma di vita ne ha. Non sembra... Non sembra super lungo, però. Cioè, per come ci ingrana il team con i turni è un altro conto. Allora. Oddio, quelle orb sarebbero anche carine da un lato. Quelle orb sono anche carine da un lato. Potrei anche farlo con tutta la sincerità. Dai, facciamo questo. Facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo. Facciamo questo mi va più che bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Non voglio guardare quanta Eva ha. Però, regà, non fate del male al vostro Broly. Ok? Buildatelo a Decrit. Non a Deva. Fatelo a Decrit. Che deve tirare giusto un po' di colpi prima di poter Crittare. Ok? Quella è la cosa importante. Che deve... Cioè, deve Crittare, no? Quindi... Buildatelo a Crit, ma poco? Buildatelo a Full Add. Dategli... Dategli Skill Orb Add Attacco. Ok? Non Eva. Per favore. Per favore, che riesce a tankare quasi tutte le special, anche le più difficili del gioco, le riesce a tankare tranquillamente, sto Broly. Non dateli Eva. Per favore, vi voglio bene. Grazie. Bisogna fare il PSA per i giocatori global che trovo nei friend. Buildi Eva, disinstalla il gioco. 500 coin rossi e 500 blu e sono indeciso se prendere Buint o il 3 Super Saiyan. Sono due coin diversi, quindi, cioè, sono uno e uno, nel senso. Puoi comprare tutte e due. Io, Bu, non lo comprerei neanche sotto tortura. Cioè, proprio, mi si presenta uno lì con pistola puntata alla testa e mi dice Bu e dico no, vaffanculo. Detta come va detta. Ok? Detta come va detta, farei così io. Però, vabbè. Andiamo avanti. Ok, allora. Volevo, forse era meglio lasciare le animazioni attive, giusto perché è la prima fight, però... Vabbè. Amen, amen. Non è il turno della vita con due Broly in turno. Ma lasciamo perdere. Ok, buono. A metà vita, ma no... Io, ripeto, non credo che abbia due fasi sta Blue Zone. Poi, comunque, la scopriamo. Junk and Pawn. Ah, fa il Junk and Pawn. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Vai, Broly, incazzati. Mena Goku. Mena Goku, è lo stesso bambino che ti vuole molto male. È lo stesso bambino che ti ha fatto incazzare da bambino o da neonato. È lo stesso. Menalo. Menalo tanto, Broly. Menalo tanto. 9 milioni, ok. E onestamente nessuna delle due prenderei su quei coin. Il trio posso ancora dire ok da un lato. Ma credo che verrà... Verrà probabilmente non giocato alla parte 2. Cioè, dalla parte 2 il trio inter non si gioca neanche più. Per me. La vedo in quel modo. Però... Si vede, eh. Si vedrà. Oddio. Ho fatto un disastro. Ho fatto cadere una roba. Ho fatto un disastro. Oggi è giornata di disastri. Non chiedetevi perché non c'è il green screen e c'è un overlay diverso. Per il video, ovviamente. Bah, Golden può tranquillamente, dai. Golden può tranquillamente. Dai, mi affido a Golden un po' di... Affido a Golden un qualcosa. Giusto per capirci, perché non so se sta battaglia finisce. Raga, 10% di evadere. Se non capite da soli dov'è il problema del 10% di evadere... Yeah. Va bene. Il trono nuovo General Orb fisiche che gli servono nel Trio Int e General Orb Int che gli servono come il pane va in conflitto tremendo. No, ma non è quello il vero problema. Non è quello il vero problema. È che il Trio Int lo vedo al momento come una scelta da... Ok, non ho probabilmente la carta che esce nella parte 2. La vedo in quel modo. Perché se escono dei Goten e Gohan e roba del genere, non volete andargli a giocare insieme al Trio nuovo? Dai. Ho già il Super Hero maxato. E ho Poké Stone. Avrebbe senso schippare la World Wide per come è ora? Dipende. Pullerei sulla parte Extreme per le missioni Extreme. Perché comunque questo Broly è bello grosso e bello divertente ed è bello forte e pullerei sulla parte Extreme. Perché così se hai le missioni da fare dell'Extreme, te le puoi fare tranquillamente e non con i Super Bosses che fai molto incazzare. No? Secondo me ha senso andare almeno da Broly. Broly è quello più importante. Non è importante il Trio. Il Trio, se avete il Super Hero, non serve a un cazzo il Trio. Però Broly vi levate dalle palle il Super Bosses schifosissimo. Cioè è quello. Vi levate dalle palle il Super Bosses. È quello. Vediamo se era monofase. Credo che sia monofase perché comunque di vita ne aveva tanta. Quindi è durato un bel po' di turni. Quindi lo si scopre. Sì, era monofase. Attacco più 15 per ogni turno passato. Ok, quindi. Attacco più 15 arriva a mille per cento. What? What the fuck? Sarebbe 14 milioni di special. Una roba del genere, ma non lo vedrete mai. Non è difficile. È tranquillo e rilassato. Forse un po' troppo tranquillo e rilassato per il team che sono usciti. Un po' troppo tranquillo e rilassato questo primo stage. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.